Comunque, vedrò quello che posso fare. Signora, è arrivato il mio turno, posso chiedere un lui passaporto falso? Ma non vedi che c'è la fila? Vai a preparare, trasparente! La verginità è come un seme, passa un uccello e se la porta via. E questa da dove viene, scusi? Questo? Sì. Stazione Termini, binario 18, muro. Ho capito. Tommaso, finalmente. Io e te abbiamo bisogno di parlare, fermi e non scappi. Hai combinato qualcosa con i narcos? Ti ha messi bene, eh? Prima avevamo un segreto, adesso i segreti due. Lo spagnolo ce l'abbiamo, siamo in un segreto. Che tale deve rimanere? 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 Grazie a tutti.